Ciao bambini, ci vedete? Assieme a me, le vocali sono A, E, I, O, U. Dipetiamo. A, E, I, O, U. Bravi bambini! E adesso diciamo l'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, D, Z. Bravi bambini! Siete stati bravissimi! E adesso andiamo naturalmente a dire le parole con le sillabe. Siete pronti? Ci vedete assieme a me! Ma, Re, Ma, Re. Ci vediamo. Ma, Re, Ma, Re. Pa, 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 Ma, Ma, Ma. Ci vediamo. Ma, Ma, Ma. E allora bambini andiamo avanti. Adesso contiamo fino a dieci. Siete pronti? Vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Bravi! Allora, ripetiamo di nuovo. Siete pronti? Vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Bravissimi! E allora, piccoletti, siete stati bravissimi e adesso ditemi come fanno questi animali. Come fa il gatto? Come fa il cane? Come fa la mucca? Come fa la mucca? Come fa il leone? Bravissimi bambini! Bravissimi! Siete meravigliosi! Ciao bambini! Ciao, 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 ciao!